Ciao a tutti a tutti, eccoci qui tornati con un nuovo video Oggi appunto giovedì nuovo video, però un video un po' speciale Perché appunto qui abbiamo diciamo, tra virgolette, un ospite speciale, ovvero mia sorella Ciao Ok, e questo video non sarebbe di giovedì Però lo faccio di giovedì perché non sapevo che video fare E nel weekend ce ne sarà uno che veramente sarà stupendo Ok Lei è Aurora Ciao È mia sorella, appunto, e oggi faremo il video tag Mia sorella mi conosce come crede Iniziamo Prima domanda, quanti anni avete? Dieci Quattordici Vi scambiano mai? Sì Allora, visivamente no Con i nomi? Sì E chi ci mette di più a prepararsi? Lei No Lei? Sì, ve lo assicuro, lei No, 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 no Lei La nostra canzone? So Wake Me Up E cosa fate di più insieme? I selfie! Litighiamo Vabbè, vabbè, un po' tutti e due E cibo preferito? Il mio? Giapponese Esattamente Il tuo? Idem Animale preferito? Il tuo? Il delfino Il tuo? Il gatto? No La giraffa? No Lippopanda No Non lo sai? Non lo so Il panda Il panda E compleanno? Ah, vediamo 19 gennaio Anno? 2004 Il tuo? Allora 5 marzo Del 2000 Esatto Ok Le domande sono finite E Evviva Vuoi dire qualcosa in più Aurora? No, ciao a tutti Sulla tua vita Un bacio Vabbè Comunque Questo era il video tag Mia sorella Mi conosce Come crede E Sembra che Mi conosca Come crede Mi conosce Mi conosce Vabbè Come crede Il video è finito Noi vi mandiamo Un bacio enorme Se il video vi sia piaciuto Vi è piaciuto Mettete un pollicino in su E Se non vi è piaciuto Non mettete un pollicino in giù No No, 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 no Più su E Se avete qualche richiesta di video Che volete che faccia Scrivetela nei commenti Quindi Spero che il video vi sia piaciuto Noi vi mandiamo Un bacio enorme Ancora? Sì E ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao